La pratica del retrieval consiste nel richiamare alla mente le informazioni ricevute durante una lezione, acquisite durante un momento di studio o in generale durante un evento di apprendimento per supportare il loro consolidamento. Ma perché la pratica di retrieval è considerata non solo utile ma estremamente necessaria per l'apprendimento? Perché la semplice lettura o l'ascolto di una lezione sono processi passivi che non comportano la fatica utile a generare apprendimento duraturo. Con le attività di retrieval si produce invece uno sforzo che supporta la codifica e il consolidamento della conoscenza raccolta, quindi una memorizzazione più a lungo termine. Le attività di retrieval possono essere varie e svolte individualmente o in gruppo. Solitamente come attività di retrieval gli studenti ripetono ad alta voce le informazioni che si ricordano o creano schemi. Ma il docente come può supportare il processo? Ad esempio può proporre quiz e domande aperte in aula a cui gli studenti rispondono singolarmente per poi chiedere loro di confrontarsi a coppie. Oppure può chiedere di sintetizzare le informazioni che gli studenti ricordano in un testo scritto o in una mappa concettuale. O ancora può proporre attività di insegnamento tra pari che richiedono agli studenti il raccontare in modo semplice e chiaro le informazioni acquisite. Qualche esempio lo abbiamo già fatto ma nella pratica didattica quando e dove inserire eventi di retrieval? Partiamo da un contesto tradizionale. A valle di lezioni ad esempio in presenza a bassa interattività gli studenti riguardano i contenuti e prendono note, creano schemi e così via. Svolgono quindi attività di rielaborazione del contenuto in modalità autonoma solitamente seguite da attività di retrieval per consolidare e memorizzare quanto appreso. Ripetono ad alta voce, da soli o in gruppi, creano delle sintesi, schemi e così via. Cambiamo però prospettiva. Il docente potrebbe farsi carico di alcune semplici attività di retrieval e inserirle nel flusso del corso. Perché? Sicuramente per stimolare uno studio costante e una memorizzazione dei concetti principali che avvenga durante tutto il percorso e non solo alla fine in un momento di studio concentrato che non porta a una conoscenza approfondita. All'inizio di ogni lezione per esempio, il docente potrebbe come prassi costante chiedere agli studenti di sintetizzare i punti che ricordano della lezione precedente, così come a fine della lezione potrebbe sempre chiedere agli studenti di lasciare un take away, una sintesi del concetto principale che è rimasto impresso. Il docente potrebbe anche farsi carico di alcune attività di retrieval per supportare una partecipazione attiva degli studenti durante un momento d'aula in cui sia necessaria la padronanza di determinati concetti. Potrebbe per esempio chiedere agli studenti di guardare dei contenuti online in modalità sincrona prima di una lezione, quindi lanciare a lezione un breve quiz di retrieval per recuperare gli stessi contenuti che sono utili allo svolgimento per esempio di una esercitazione. L'attività di retrieval in questo caso risulta fondamentale per il consolidamento ma anche per allineare le conoscenze della classe e fare in modo che tutti gli studenti abbiano gli strumenti necessari per svolgere l'attività. Gli esempi potrebbero essere molteplici, ma ciò che preme sottolineare è che le attività di retrieval possono collocarsi nei differenti scenari, durante tutto il percorso di apprendimento e di queste attività deve farsi carico anche il docente che può abbinarle a tutti gli eventi di apprendimento che abbiamo già visto.